benvenuti sul mio canale tutto dal web ultimora fedez è stato dimesso dall'ospedale fate bene fratelli di milano e ritorna a casa insieme alla moglie chiara ferragni dopo nove giorni di ricovero di apprezzione il rapper potrà tornare a casa per festeggiare il suo compleanno il prossimo 15 ottobre con la sua famiglia il cantante marito di chiara ferragni che è sempre stata al suo fianco è stato ricoverato il 28 settembre nel reparto di chirurgia d'urgenza e oncologia delle fate bene fratelli di milano diretto proprio da marco antonio zappa ha subito due trasfusioni di sangue poi due giorni dopo un nuovo sanguinamento che però è stato preso in tempo grazie a un'endoscopia senza necessità di ulteriori trasfusioni prima di andare a casa però fedez si è fermato un minuto con i giornalisti e dice volevo ringraziare tutta la struttura del fate bene fratelli il professor zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema perché senza i donatori io oggi non sarei qui poi un ringraziamento particolare anche alla moglie chiara ferragni che non l'ha lasciato da solo neanche un minuto fedez ritorna a casa per abbracciare i suoi bambini